Edith ha solo 16 anni, un amore travolgente per la danza e davanti a lei un futuro fatto di sogni e desideri e passioni. Poi un giorno tutto cambiò. Le portarono via un padre, una madre, le portarono via ogni cosa, ma lei decise che nessuno avrebbe potuto distruggere ciò che di più importante aveva al mondo, la danza. Questa è la storia di chi riuscì a sopravvivere all'orrore, grazie al coraggio e alla consapevolezza che per quanto terribile, per quanto disumano sia il presente, la scelta del futuro resta nostra. Questa è la storia vera della ballerina che sopravvisse all'inferno di Auschwitz.